I due ambolci di Vic e Pozza che si ingegnano per sul Nefcomun del Senzano è una delle doldre immagini della Almanac dati fuori dalla Unione di Ladins di Fascia. A mille sedi, mesi per mesi, andò meto al luster gli eventi maures, facendo utzer la riflessione con sia ironia e col gran gusto dei dettagli di sia caricature. Quest'ante faccia le succedumi in gol de dut, i faccegni e medes belle bonde a fer e sono contento che ha già che le navale ferruscola, le succedute che sulla fusione, che sul referendum, i neves impianchi su un doleda, sulla marmoleda e di tutto questo, lei dà stimolo a me a disegnare. Lei ha la realtà che è umoristica da sé, ma ogni volta che si guarda domingol di me e se siete bene, guarda che cosa succeda, già vede mingol di ironia da poter mettere in te, entro c'è la prima piatta dell'Almanac che stanno e proprio vogliono mettere un pester migrante che ormai è stata tramudata, è un scuro che viene da fuori da qua. E le mingol la situazione non del modo della Val di Fassa, ma mingol a livello italiano e europeo. Nel Almanac 2006 fece bella parbuta e ince la litazione del Vescov Lauro Tisi, dopo la vera storia di Daniel Zen, il Prinz Vescov Ladin, la voce che sciampa dalla Melga di Fassa, non c'è la benedra remenenta dei Ladins sul Sella d'Osset Antenne, amò il viaggio della Terra Santa della Scuola di Fassa e la questione tanto debattuta dell'antenna sul quarto dell'Action Bolt di Moina, Riccardo Franceschetti, che manda fuori adesso segni di fumo. Che è questa patoffia che ha? Ma questa che ha, è sull'operazione marmoledda, no? Già che i vel portelli impianti, i vel portelli impianti, mingol più in auta, e dunque le mingol la discussione interdottore, sulla pazienza, ormai la marmoledda che la ha dato a morire, a sedere le guerre, e la giusta tirare da fuori dal congelatore, ma se vedi che non si mette d'accordo, c'è il pericolo di chi ha batteri di vini sorti, e dopo se vedi che si va e la mette in dottore del congelatore, perché non abbiamo un accordo fatto, insomma. Quest'anno l'ince la bellota neva dei ortam e del nostro regione, da metà te ort, da parte di Sebastian e Stefani della Melga Sorreia e coi disegni di Laura Sanchez.